amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un grave lutto per il cinema e per la musica italiana è scomparso un grande personaggio un personaggio che più volte avevamo citato sul primo live di marco liguori e prima di scoprire di chi si tratta vi ricordo che con l'ora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo a 72 anni ci ha lasciato gianni nazaro il cantante dell'amore perché abbiamo detto che è un lutto anche per il cinema italiano perché gianni nazaro è stato anche attore lo ricordiamo in ma che musica maestro scandalo in famiglia e impotenti esistenziali lo ricordiamo anche per aver partecipato a telefilm come un posto al sole ma soprattutto gianni nazaro è stato un grande cantante lo ricordiamo a sanremo 83 e particolare che forse non tutti conosceranno gianni nazaro doveva partecipare a sanremo 87 con perdere l'amore la canzone fu scartata ironicamente l'anno dopo fu presentata da massimo ranieri e la canzone vinse quell'edizione del festival il cantante dell'amore è morto a 72 anni in seguito ad un tumore ai polmoni era ricoverato al gemelli di roma ci lascia una memoria storica fatta di canzoni romantiche canzoni indimenticabili e voglio lasciarvi con l'estratto di una delle sue canzoni più belle quanto è bella lei prati senza fine fiori bianchi questo è lei ha negli occhi il mare non lo sa chi mi fa morire mi perdona è sempre lei parole estratte da quanto è bella lei di gianni nazaro